Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora, oggi voglio mettere a posto con voi parte della mia make up collection Perché la scrivania che ho davanti a me in questo momento è strapiena di trucchi Che sono poi i trucchi che uso più spesso, sono veramente, veramente tantissimi E i cassetti grandi che ho qui sono un disastro Adesso lo vedrete, mi vergogno quasi a farvi vedere in che condizioni sono Perché è veramente, veramente imbarazzante E quindi mi sono detta assolutamente, devo farmi questo programma e rimettere tutto a posto Ho pensato perché non farlo con voi in videocamera Così nel frattempo vi faccio vedere sia come sistema e come metto a posto E poi vi parlo anche dei miei prodotti preferiti Ho comprato su Amazon queste, tipo questi contenitori, vaschette in plexiglass Appunto che sono tipo dei divisori per cassetti Speriamo che la grandezza sia giusta Adesso vediamo come adattarli, ce ne sono tantissimi Sono uno dentro l'altro Quindi iniziamo ragazzi, bando alle ciance perché abbiamo veramente tanto tanto lavoro da fare Ok questa è la mia postazione make up attuale Ovviamente non è bellissimo da vedere ma qui ci sono le luci che devo sempre tirare fuori quando filmo E quindi questa è la mia scrivania Qui c'è altro make up, questo è tutto pieno di make up Di là ho un altro, Alex uguale identico, tutto pieno di prodotti Quindi adesso però ci soffermeremo in particolare Se volete il video aggiornato sulla mia make up collection fatemi sapere nei commenti che vi firmo anche quello Ma oggi appunto ci soffermeremo in particolare sulla scrivania Perché è pur vero che così sembra tutto in ordine Però se io vado ad aprire questi cassetti Vi rendete conto che in realtà sono appunto super in disordine A malapena riesco ad aprirli Ed è veramente imbarazzante Io odio il disordine quindi non sopportavo più questa situazione E le vaschette in plastica Ve le faccio vedere qui dalla poltrona Penso che vediate meglio perché lì c'è troppa luce Queste sono le vaschette in plastica che ho preso da Amazon Ce ne sono appunto tantissime in realtà Solo che sono tutte incastrate E quindi grazie a queste voglio riordinare un pochino meglio Con la speranza che poi effettivamente rimangano in ordine Perché il fatto è che quando riordino questi cassetti Poi utilizzando, questi sono appunto tutti i prodotti che utilizzo praticamente Quotidianamente o comunque quasi quotidianamente Sono quelli che uso di più nel periodo, variano sempre Però sì, utilizzandoli molto Anche quando metto in ordine poi Il disordine ritorna subito Quindi spero che con queste riuscirò a tenere tutto più in ordine Che rimanga poi così Quindi io direi che la prima cosa che dobbiamo fare è svuotarli completamente Penso che questa sia la cosa migliore Quindi tiriamo tutto fuori Diamo una pulita ai cassetti E poi piano piano andiamo a reinserire tutto in modo ordinato però Detesto quando mi succede questa cosa Ma è colpa mia perché non svuoto mai il temperino E questo è il risultato Che si è aperto e si è sporcato tutto il cassetto Ok, primo cassetto svuotato E stavo pensando di lavorare separatamente Quindi direi prima di pulire questo cassetto mettiamo a posto questo Che è il cassetto in realtà del trucco occhi e labbra Mentre quello è il cassetto della base viso Quindi fondotinta, cipria, blush, primer sono tutti là Mentre qui appunto ci sono rossetti, mascara, eccetera Quindi iniziamo da questo Adesso puliamo via tutta questa schifezza imbarazzante E appunto mettiamo a posto questo Nel frattempo questa è la marea di prodotti Che ho tirato fuori dal cassetto Tutti incasinati Ok, adesso che ho passato l'aspirapolvere Che era l'unico modo per raccogliere tutta quella schifezza Vado a spruzzare questo spray che è anche igienizzante Così almeno disinfettiamo un po' Volevo tirare fuori il cassetto Metterlo sulla scrivania in modo che possiate vedere meglio Ma purtroppo è legato dall'interno Quindi cioè è bloccato Lo scottex ha creato un disastro Ma adesso con la salviettina detergente Provo a rimuovere queste macchioline di rossetto Che non se ne vanno molto facilmente Ok, tutto sommato Il cassetto adesso è pulito Questa macchia di rossetto purtroppo non se ne va del tutto Ma insomma non è un problema Perché comunque sopra adesso ci mettiamo le vaschette Vediamo di sistemare le vaschette E poi andiamo a decidere come riempirle Allora proviamo a distribuirle Perché non so effettivamente se sono della gradezza giusta Io le ho prese un po' a caso Ok, no, è meglio in realtà metterle verso l'esterno Perché qui c'è pochissimo spazio Non riusciremo a metterci nulla E possiamo mettere Penso questa qua così E questa piccolina qua Penso che questa sarà la nostra disposizione Purtroppo qua dietro c'è un mini spazio Magari riusciamo a sfruttarlo Lo vediamo però onestamente così Sarà sicuramente molto più semplice Tenere in ordine questo cassetto Quindi già mi dà molta speranza Perché se lo confrontiamo con l'altro Che è un disastro Direi che siamo comunque a buon punto Perlomeno l'idea non è male Visto che anche i prodotti sono sporchi Devo pulirli tutti Prima di metterli all'interno del cassetto Questa è la palette di Too Faced Born This Way Sunset Stripped È molto molto bella Ha un sacco di tonalità neutre Quindi la tengo sempre qui Perché è una palette che utilizzo spesso Insomma se voglio fare un trucco naturale E c'è anche un bellissimo illuminante Palettina di Chiara Ferragni Questa era la penultima collezione Questa palettina è bellissima Adoro il pack Mettiamole per adesso qui Le palettine Poi vediamo come distribuire un po' Anche questa zozzissima Che va pulita Sempre di Too Faced Anche questa è super 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 carina Guardate che colorazioni stupende Questo turchese è meraviglioso Altra palettina di Chiara Ferragni Questa è quella di quest'anno Che è questa molto carina Andiamo a darle una pulita Qui dobbiamo suddividere Mascara Prodotti per sopracciglia Rossetti E matite labbra Vediamo come fare Questo tra l'altro è un rossetto di Wicon Che adoro Non costa tantissimo È il Long Lasting Liquid Lipstick In colorazione 72 È un nude rosato Bellissimo Super super consigliato Proviamo a mettere qui i rossetti Che è la vaschetta più grande Perché ne ho veramente tantissimi Questi sono solo quelli che utilizzo più spesso Che voglio avere a portata di mano sempre Non so se vi ho mai parlato di questo rossetto di MAC È un matte Si chiama Reverence Bellissimo rosa Davvero stupendo Questo è un altro rossetto MAC Che adoro Cioè guardate quanto me ne è rimasto Niente praticamente Si chiama Faux Scritto F-A-U-X Bellissimo Anche questo è un nude Insomma queste sono le tonalità Che mi piacciono di più Altro rossetto Che vi devo assolutamente far scoprire Se vi piacciono i nude come a me È questo di Mesauda Anche questo opaco E si chiama Honeymoon È il numero 602 Altro rossetto meraviglioso È questo di Mulac Il Velvet Ink In colorazione In My Birthday Suit Bellissimo Ritrovate sepolte praticamente Non mi ricordavo neanche di averle qua Le due palettine di ombretti Di Victoria Beckham Sono molto molto carine Questa naturalmente Questa a destra è più fredda Più naturale Questa a sinistra Ha dei colori un pochino più caldi E più scuri Ma sono entrambe davvero Molto molto belle Sono degli ottimi ombretti Adesso in realtà ci mancano Matite sopracciglia Matite labbra Mascara E matite occhi Quindi non so bene come far stare tutto qua Direi di spostare un po' le palettine E facciamo un po' di spazio qui Così ci metto i prodotti per sopracciglia Primer Ne ho due tra i prodotti che uso di più Anche se non uso sempre il primer Devo dire Posso usare anche il correttore Come base per l'ombretto Però ne ho due C'è la Eyeshadow Primer Potion Di Urban Decay La Shadow Insurance Di Too Faced E altra mini size Della Shadow Insurance Prodotto super valido per le sopracciglia Non penso di avervene mai parlato E' il Mr. Brow Filler Molto soddisfatta Come potete vedere Qui ci sono solo rossetti MAC Qui c'è un po' una miscellanea di rossetti MAC Urban Decay Christian Dior Diego Della Palma Chiara Ferragni Tutti questi glitterati E Too Faced E San Doran Due di San Doran E poi il mio Naturalmente super preferito Di Charlotte Tilbury Il Pillow Talk Ne ho usati tipo 4 di questi già E qui abbiamo Un mix tra Rossetti liquidi E matite labbra Quindi questo è un altro Scomparto labbra Qui abbiamo Mascara e matite Mascara matite eyeliner Quindi ci sono I mascara che sto utilizzando In questo periodo C'è lo Sky High di Mabel Medellin Il Tarte Elet Tube in Mascara di Tarte E poi Il Bad Girl Bang Di Benefit E poi questi due Mini mascara Che devo finire Uno è questo La Bals Mascara di Chanel Non so dirlo in francese E poi il Bad Girl Bang Sempre quello di Benefit Però versione mini E da questa parte invece Ci sono varie palette di ombretti Che avete visto Questo è un ombretto liquido Completamente trasparente Di Gucci Che fa un effetto Bellissimo E qui ci sono appunto Basi per mascara E questi sono tutti Prodotti per sopracciglia Quindi direi che Con questo cassetto Abbiamo fatto Passiamo Ta-na-na All'altro Stessa cosina Anche qui naturalmente Svuotiamo Completamente Tutto il cassetto Che è la cosa più semplice Andiamo a pulire L'interno E poi Sistemiamo Tutto quanto Adesso pulisco L'interno del cassetto Direttamente Stavolta con le salviettine Queste sono quelle Rimuovi trucco appunto Perché Altrimenti Lo scottex Mi lascia tutti I pallini Però questo Non è così sporco Come l'altro Ok Questo è il Massimo Che sono riuscito A pulire C'è ancora Qualche mini Segno di Trucco Che però Non se ne va Ma anche qui Ovviamente Adesso andiamo a metterci Le nostre Vaschette I nostri inserti Stessa disposizione Praticamente Dell'altro cassetto Abbiamo le stesse Vaschette Ok ci siamo Adesso qua Dobbiamo mettere Tutti i prodotti Per la base Quindi Correttori Fondotinta Forse anche qualche primer Gli altri li ho Lì sull'altro Mobiletto Correttore Fondotinta Cipria Blaster E basta Penso Però sono comunque Tanti prodotti Vediamo un attimino Come sistemarli Iniziamo Sistemando I fondotinta Questi sono Dio la scritta Se n'è andata Praticamente Questo è il mio Nudissimo Lo conoscete tutti Perché è uno dei miei Fondotinta Preferiti di sempre Di Diego Dalla Palma C'è anche la versione Per pelli secche Questa invece È la versione Per pelli miste Quindi quella Opacizzante E le mie colorazioni Appunto Sto mischiando Due colorazioni Per trovare Il mio colore Che sono La 243C E la 242N Intanto Li mettiamo Qui Poi magari Cambiamo la sistemazione Vediamo un attimino Altro fondotinta Che ho scoperto Di recente Me l'ha inviato San Loran Ed è il All Hours È la All Hours Foundation Colorazione B330 Cool All Mond Questo è disponibile Anche in versione Liquida Sono infatti Molto curiosa Di provare Anche La versione Liquida Altro fondotinta Pazzesco Che mi piace Un sacco È questo Di Dior Questo è il Forever Anche questo Naturalmente Versione opacizzante Per pelli miste Grasse Ma c'è anche la versione Per pelli secche Ho appena ricomprato Questo fondotinta Dopo aver utilizzato Un tubetto intero E rimane uno Dei miei fondotinta Preferiti Ne abbiamo parlato Qualche video fa Non tanto tempo fa Ed è super 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 Consigliato Questo dà proprio Un effetto airbrush Che adoro È anche un'ottima coprenza E la mia colorazione È La 1N Direi adesso I correttori Di sistemarli In questo Spazietto qua Iniziamo con Questo di Mesauda Che è il Magic Wand Ed è un ottimo Correttore Non ha una coprenza Pazzesca Ma è molto molto Naturale Mi piace Sia per la zona Del contorno occhi Che per Brufoletti E imperfezioni Sul viso Questo è uno Dei miei correttori Full coverage Preferiti È di It Cosmetics È il Bye Bye Under Eye Ragazzi Questo correttore È fantastico Veramente Fantastico Copre Tutto Non entra Nelle pieghe Rimane naturale Se volete Un correttore Full coverage Provatelo Io non lo utilizzo Sempre Ma solo Quando Ho dormito Poco Praticamente Oppure ho dei Brufoli Difficili da coprire Appunto Vado con questo Che non delude mai Cipria Utilizzo tantissimo Questa di Mulac Che è quella Trasparente È in Colorazione Seal the deal Per il momento Le ciprie le mettiamo Qui Volevo in realtà Metterle Tipo così Però questa È troppo Grande Non ci sta Quindi magari così Forse è più comodo Altra cipria Fantastica È questa Di Gucci Compatta Anche questa Trasparente Questa è la Poodle De Boutet Spero di pronunciarlo Bene In colorazione Matte Naturel 000 Adesso devo un attimino Capire come sistemare I blush E le terre Vediamo Potremmo metterle qui E qui O sfruttare anche Questo spazio Approfitto per farvi vedere Bene la differenza Tra un bronzer Che sarebbe Questo di Benefit La Hoola Ed un prodotto Invece per fare il contouring Notate che entrambi Sono marroni Ma Questo Di destra Con la confezione Bianca Appunto È molto molto più freddo Che tra l'altro È di Zara Zara Beauty Ed è per questo Che se fate il contouring Con un bronzer Che è troppo caldo Non avrete mai Un effetto naturale Perché le ombreggiature Del nostro viso Sono naturalmente Fredde Quindi se volete fare Il contouring Dovete per forza Scegliere un colore Freddo Come questo Mentre se volete Semplicemente Dare un tocco Di abbronzatura Al viso Utilizzate un bronzer Che è sempre più caldo Non in tanti La sanno questa cosa Però sì È tutta qua La differenza Tra bronzer È prodotto È prodotto invece Per contouring Non penso di avervi Mai parlato Di questo stick Ma devo assolutamente Farlo Perché se avete La pelle mista Grassa Che tende A diventare lucida Ne avete bisogno Di Givenchy È uno stick Opacizzante Completamente Trasparente Ma che vi giuro Toglie la lucidità Della pelle In una passata Cioè voi lo passate E la pelle diventa opaca Si può usare sia Sulla pelle struccata Che sopra il trucco Ragazzi è fantastico Questo dovete provarlo E si chiama Matte and Blur Touch Qui ho messo Tutti i blush Di Benefit C'è in realtà Anche un illuminante Da qualche parte Eccolo qua Il Dandy Lion Twinkle E poi c'è anche Il mio bronzer La cula Un blush che ho da secoli Ma torno sempre Ad utilizzarlo Perché questo è Del colore perfetto Per la mia carnagione È davvero Un Un tocco Diciamo di colore Sulle guance Ma rimane Super super naturale Infatti è parecchio chiaro Questo è di Diego Dalla Palma Ed è Si chiama appunto Polvere compatta Per guance Ed è in colorazione 11 Quanto è bello invece Questo blush Di Too Faced Il pack È stupendo E le farfalle Ci sono anche Nella cialda Bellissimo C'era tutta una patina D'oro in realtà Che però Dopo qualche utilizzo Se n'è andata Un pochino ancora Si riesce a vedere Ok ragazzi Direi che ci siamo Il nostro cassetto È perfettamente in ordine Là dietro Ho messo I Insomma Uno specchio E qualche altra Cosina Spugnetta Tipo questa Di NYX E appunto Un altro specchietto Piccolino E qui appunto Ho messo Tutti i blush E i prodottini In polvere Nelle box Di Benefit Qui abbiamo Vabbè Questo è silicone liquido Per un video Che volevo fare Col lirio E qui c'è Il bretto di Gucci Che ho messo Da questa parte Che c'era uno spazietto Qui abbiamo blush E terre Ciprie Primer Fondotinta E correttori Quindi devo dirvi Sono molto soddisfatta Del risultato Qui invece ci sono Le cosine Che andiamo A declatterare Ma non tutte Sono da buttare Allora questa Sicuramente sì La cipria Di Charlotte Tilbury Questa è la Airbrush Flawless Foundation Ottima cipria Ma come potete vedere È finita E lo specchietto Tra l'altro Si sta anche Staccando Quindi direi Che questa Può andare Nel cestino Bye bye Poi c'è questa palette Che in realtà Mi secca buttarla Perché nonostante Si stia staccando Però ci sono ancora Tantissimi prodotti validi In realtà Quindi vado a metterla Semplicemente Nella mia make up collection Ma non la butto Perché sarebbe uno spreco Balsamo labbra Di secoli fa Che sicuramente È scaduto E quindi Sono secoli Che non lo uso Quindi anche questo Nel cestino Bye bye Anche questo correttore Di Mulac Questo è il Dorian Concealer Ottimo ottimo Correttore Mi è piaciuto un sacco La colorazione Che avevo Era la 01 Però è finito Quindi anche questo Va cestinato Nonostante non sembri Ma vi garantisco Che dentro Praticamente non c'è più prodotto Altri due prodotti Che devo cestinare Perché li ho utilizzati Per tantissimo Forse anche troppo Oltre al termine Sono Link Liner Di Mesauda Ottimo eyeliner nero E poi questo Marrone Invece Di Too Faced Quindi salutiamo Anche loro Bye bye Super super contenta Ragazzi Appunto Del risultato Abbiamo buttato via Diverse cosine scadute E abbiamo Riordinato E pulito Tutto Quindi mia family Questo è quanto Per il video di oggi Sono molto contenta Ci abbiamo messo una vita Ma sono molto felice Del risultato Finalmente Adesso La mia postazione Makeup È tutta in ordine Comunque Fatemi sapere Se volete La collezione Makeup Aggiornata Mi raccomando Se vi è piaciuto Questo video Lasciatemi un like E iscrivetevi al canale Attivando la campanella Mi raccomando Io vi mando un bacio Gigantesco Venite qua Che il nostro braccio finale Non può mai mancare E vi abbraccio Forte 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 E io vi aspetto domani Sempre puntuali Alle 17.30 Con un nuovo video Ciao Ciao